Leonardo da Vinci lo conosciamo tutti o forse no c'è ancora qualcosa da studiare da scoprire sì ci sono tante cose meravigliose intanto i suoi codici eccoli qua questo è un piccolo codice Leonardo da Vinci che nasconde i suoi segreti e le sue meraviglie sono piccoli non sono grandissimi alcuni sono fogli grandi ma altri sono contenuti all'interno di questi taccuini a viaggio e poi questi fogli perché Leonardo li dipinti di rosso e poi quest'altro foglio perché è un po' blu ma soprattutto con le sue macchine come ci sono alcune tagliate e incollate ci sono tanti misteri ancora da scoprire ma la cosa più bella è vedere i suoi codici all'interno di questi meravigliosi taccuini da viaggio Leonardo ha descritto tantissime macchine non solo quelle 4-5 macchine che noi tutti vediamo nei soliti libri nella solita mostra il caro armato la metagliatrice no ce ne sono cose molto più importanti ci sono cose meravigliose le macchine dal volo mica una sola insomma le scopriremo tutto tutto questo come lo scopriremo attraverso un libro come diventare Leonardo da Vinci l'ho scritto è stato lunghissimo è stato divertente l'ho scritto per soprattutto per i più giovani per i ragazzi dai 5 anni ai 99 che vogliono veramente diventare Leonardo da Vinci perché Leonardo da Vinci si può diventare bene questo libro è pieno di tanti segreti tante piccole stranezze su Leonardo non è il solito libro sulle solite cose dove è nato quando ha vissuto quando è andato a Milano non ci interessano quelle sono tutte nozionismo che trovate sicuramente in libri già scritti e trovate tutto su wikipedia sicuramente ma per esempio il ponte di Leonardo da Vinci il famoso ponticello autoportante ma è suo no scoprirete che il ponte Leonardo l'ha copiato dai cinesi che l'avevano fatto addirittura 500 anni prima ebbene sì uno dei trucchi di Leonardo è studiare tantissimo studiare la storia è importantissimo infatti scopriremo che ci sono dei segreti legati alle sue macchine da guerra come mai Leonardo ha disegnato così tante macchine da guerra e poi il car armato è proprio funzionante la cosa incredibile scopriremo le fonti Leonardo vi faccio vedere in questi meravigliosi disegni che Leonardo ha copiato ha studiato le macchine da guerra da un trattato dei re militari prima di lui poi lo ha regalato al duca questo è il suo codice pieno di macchine dicendogli guarda quante belle macchine so fare ma in realtà la cosa sorprendente è che c'è un mistero anche legato sul suo curriculum quello che ha scritto il duca non tutti lo conoscono e qui lo racconto ma soprattutto l'arte è meravigliosa sicuramente sì ma perché questo disegno è importante perché è rosso come Leonardo disegnava dei disegni rossi e disegni blu o forse era un modo per fare esatto lo scoprirete poi in questo capitolo guardate questo che bello un trucco speculare capitolo 11 questo disegno geometrico è molto bello ma perché Leonardo l'ha fatto solo la metà perché nascosto dentro ci sono dei piccoli puntini dei buchini che Leonardo copiava dalla tecnica dello spolvero ma poi ha riusato per fare questi oggetti simmetrici infatti gli oggetti simmetrici in disegno tecnico vengono fatti soltanto alla metà e Leonardo è stato un primo design della storia ma guardate qui che bello questo giglio famoso perché tutti raccontano che bel giglio no il vero segreto di questo disegno sta in questi micro forellini questi piccoli puntini che Leonardo utilizzava con la tecnica della spolvera per trasferire il disegno direttamente su una tavola di legno una specie di fotocopiatrice del 1500 ebbene sì si possono fare le fotocopie anche con l'ingegno senza bisogno di tecnologia ma soprattutto scopriremo qual è il segreto per diventare dei bravi pittori come mai Leonardo è diventato così bravo e all'inizio era così bravo scoprirete che qui all'interno vi ho nascosto un bellissimo disegno uno dei più brutti disegni di Leonardo è bellissimo perché vi fa capire che anche voi se iniziate dal basso facendo disegni brutti non è che siete lontani da Leonardo perché anche Leonardo ha fatto disegni brutti poi ci sono dei draghi dei gatti cosa ci fa queste tavole sono meravigliose sono bellissimi disegni e qui c'è un segreto incredibile scoprirete leggendo il libro che qui è nascosto un gatto attraverso nei mezzo ai dei draghi e poi c'è un drago in mezzo ai gatti strano mistero ma lo scoprirete soprattutto l'anatomia importantissima per Leonardo anche qui ancora i buchini ritornano soprattutto c'è una cosa incredibile che riguarda il fatto che Leonardo aveva una visione tridimensionale questi non sono tanti disegni del corpo umano messi così a caso no il vero segreto di questo meraviglioso disegno è nascosto qui piccolino ve lo poi racconterò in questo capitolo dove vi spiegherò quali sono i segreti di Leonardo per poter fare questi studi misteriosi per poter inserire delle informazioni tridimensionali all'interno del disegno la cosa incredibile che poi c'è soprattutto la parte sul volo le macchine volanti ma soprattutto Leonardo si è ispirato alla natura come mai fa queste macchine volanti di queste forme perché tutto nasce dalla natura Leonardo l'aveva capito l'aveva imitata l'aveva studiata la cosa incredibile dell'ultima cena che è un disegno precursore della moderna tecnologia della realtà virtuale se ci pensate perché una prospettiva precisa perfetta e qui racconto anche alcuni segreti sull'ultima cena ci sono dei misteri incredibili ma guardate che bello questo come si fanno i colori Leonardo li andava a comprare no i colori si costruiscono si creano partendo dal lapislazolo per esempio dalle pietre qui vi racconto anche come voi o vostri figli potete divertirvi a creare un colore da un mattone ebbene sì questo colore potete crearlo da un mattone scoprirete che Leonardo aveva studiato anche il sistema rosso giallo ciano quello della stampante del televisore i quattro colori fondamentali per la stampo i tre colori che vediamo sul computer alla fine derivano sempre dai suoi ricerche sul trattato di pittura ebbene sì incredibilmente sì la nostra tecnologia deriva anche dagli studi del trattato di pittura di Leonardo poi c'è un Leonardo designer un Leonardo pittore artista stilista e poi c'è la gioconda qui troverete la gioconda restaurata come mai vista prima ma soprattutto vedrete per la prima volta la gioconda prima di essere dipinta è finita ma soprattutto qual è il segreto di questi dipinti come mai devono essere fatti in questo modo in quella scala precisa per poter non solo dare un'emozione ma è diventare la prima realtà virtuale del 1500 ebbene sì Leonardo ha pensato a tutto guardate questo cavallo meraviglioso qui ci sono dei disegni preparatori ma soprattutto ci sono spiegati tutti i trucchi e i segreti che Leonardo studiava dal verrocchio ovvero come si fa a diventare un bravo pittore come si fa a disegnare una bella prospettiva e soprattutto è importante studiare e lavorare tantissimo certamente che sì ma con metodo avete mai pensato di costruirvi un codice ebbene qui vi racconto come si costruisce un codice come faceva probabilmente Leonardo la carta è preziosa se vi costruisce un codice da voi diventerà un oggetto preziosissimo incredibile l'uomo vitroviano non è mica di Leonardo è di Vitruvio lo scoprirete nel libro e capirete anche perché ma soprattutto una cosa incredibile è Leonardo che si vende al duca di Milano attraverso una lettera bellissima che qui racconto e scoprirete qual è il segreto cosa c'è veramente in questa lettera altro che Leonardo che va a Milano suonare la lira a fare il giullare no c'è ben di più importante da studiare scoprirete come si realizza un primo curriculum proprio per trovare lavoro esattamente come faceva Leonardo ma guardate questo dipinto bellissimo poi mi fermo perché se no vi racconto tutto come si fa a fare l'acqua nei dipinti ebbene c'è un trucco c'è un segreto per dipingere l'acqua il libro è in italiano in inglese per chi vuole anche provare a leggere in inglese ma soprattutto è pieno di questi trucchi e segreti come la tavola rossa perché questo disegno sul rosso lo scoprirete un piccolo accenno sul fatto che è importantissimo il riflesso non tanto le ombre ma gli oggetti per far diventare tridimensionali Leonardo ci spiega come il riflesso il colpo di bianco è fondamentale per far saltare fuori l'oggetto dalla tavola una cosa incredibile e bellissima ebbene più di 100 capitoli che però che fine fanno perché alla fine io mi sono chiesto bene tutto questo nozionismo queste cose bellissime questi segreti sulla pittura la meccanica ma oggi cosa ce ne facciamo cosa segniamo i nostri figli a dipingere ad olio no oggi è il tempo del digitale ed ecco qui arrivano gli ultimi capitoli per me importantissimi dove racconto con degli esempi del mio lavoro che si tratta anche di arte digitale di realtà virtuale come tutte le nozioni che abbiamo imparato i trucchi di Leonardo Vinci possono essere utilizzati oggi nelle materie addirittura scientifiche come Leonardo studiava l'anatomia e noi possiamo usare i free studi per creare dei robot per esempio oppure delle architetture le regole sono sempre le stesse noi oggi possiamo costruire dei mondi virtuali Leonardo avrebbe avuto sicuramente voglia di usare un computer oggi noi lo possiamo fare possiamo creare degli animali virtuali studiando gli animali come li studiava Leonardo e soprattutto possiamo stampare in 3d con una stampa in 3d e scopriremo nel libro che Leonardo ci aveva già pensato a come fare una ricostruzione di un cavallino attraverso un sensore fatto con dei dei pezzoli di legno una cosa incredibile ma Leonardo ci aveva già pensato ebbene cos'è la creatività come si diventa Leonardo da Vinci lo scoprirete in questo libro ricco di illustrazioni sono tantissime pagine come diventare Leonardo da Vinci lo trovate su Amazon grazie a tutti Grazie a tutti